Federico Guidi da oggi avrà a disposizione due giovani rinforzi provenienti dal Benevento. Il Teramo ha infatti ufficializzato gli arrivi del centrocampista Marco Cucurullo, classe 2000, che ha sottoscritto con il Diavolo un contratto di due anni. E l'esterno difensivo mancino Francesco Rillo, anche lui 21enne, giunto in Abruzzo, non a titolo definitivo, ma con la formula del prestito secco. Cucurullo, nativo di Vico Equenze, nella stagione appena conclusa ha militato nella Cavese, ma ha esperienza anche in Serie D, girone H con la maglia del Taranto. In difesa sinistra arriva invece Francesco Rillo, nato e formato calcisticamente proprio nel Benevento, ha fatto il suo esordine giallo-rosso in Serie B, quattro presenze nella stagione 2019-2020, per poi scendere in Lega Pro vestendo la maglia del Fano con sette presenze, trasferendosi a gennaio scorso nelle fila della Casertana con cui ha disputato 15 partite. Doppio arrivo dunque, aspettando che sull'altra corsia di difesa il Teramo ufficializzi anche Cristian Azios Vanovic, anche lui nell'ultimo anno a Caserta con l'attuale tecnico bianco-rosso. Non si registrano novità invece sul fronte Pietro Cianci, l'attaccante è ancora un partente molto più che probabile, ma Padova e Catanzaro stanno facendo ragionamenti ulteriori anche su profili differenti. I contatti con la società calabrese, che è in agenta anche il nome di Vano, sono proseguiti anche nelle ultime ore senza però far registrare nulla che la dirigenza giallorossa non sapesse. Alta la richiesta del Teramo per il Barese, che pare godere della stima dei vertici, poca voglia di affrettare i tempi invece per Vano, considerato prima scelta del tecnico calabro. Intanto, dopo il ricorso in Serie B respinto del Chievo Verona, che ha spalancato di nuovo le porte della cadetteria alla Cosenza, oggi è nel turno anche delle squadre di Serie C. Fumata nera anche per la San Benedettese, che già guarda oltre e sta cercando di mettere assieme i tasselli per la nuova società. La sensazione è che anche per Carpi, Casertana e Novara ci sia davvero poco spazio per poter sperare in un accoglimento dei rispettivi ricorsi. Viste le tempistiche però, con la Coppa Italia e il campionato, che inizieranno ad incombere, potrebbe esserci presto l'intervento del presidente federale Gabriele Gravina per mettere la parola fine alla querella disegnando gli organici di Lega Pro e procedere alla stesura prima dei tre raggruppamenti e successivamente dei calendari.